Il 26 dicembre del 1973 usciva nelle sale degli Stati Uniti il film L'Esorcista, un film che ha avuto un grandissimo successo al botteghino ed è stato imitato, tant'è vero che il regista William Friedkin ha poi fatto diversi seguiti. Insomma ha avuto una grande notorietà. La cosa interessante è che per la prima volta possiamo dire la presenza del diavolo usciva nelle sale e questo ha fatto sì che quel film facesse veramente paura, pur essendo di fatto un'opera inventata di finzione non era totalmente inventato, c'era qualcosa di vero. E c'è una cosa interessante da notare, il più famoso degli Esorcisti, Don Gabriele Amort, che peraltro era un paolino mio confratello, disse di quel film che per quanto un po' fantasioso era abbastanza interessante, in qualche modo aveva sdoganato la presenza del diavolo nella nostra epoca. E c'è un fatto curioso interessante ulteriore, cioè che più o meno un anno e mezzo fa, in realtà era a due mesi dalla morte di Don Amort, il regista Friedkin ha voluto incontrare Don Amort, ha registrato un documentario che poi è stato mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove faceva vedere un esorcismo fatto da padre Amort. Anzi, era la prima volta che il regista vedeva un esorcismo dal vero e questo gli ha fatto veramente molta impressione. La realtà del diavolo, della sua presenza, la presenza del male è qualcosa di vero e in qualche modo il film dell'esorcista ce lo ricorda ancora oggi.